La società Football Club Marsala nella giornata di oggi, in ottemperanza alle scadenze federali, comunica di aver iscritto la squadra nel campionato di prima categoria e di aver contestualmente richiesto il ripescaggio nel campionato di promozione. La società del presidente Sardone inoltre comunica di aver individuato le figure professionali che completeranno l'area medica della società. Il dottor Leo Di Bartolo, medico di medicina generale specializzato in otorinolaringoiatria, sarà il medico sociale. Il dottor Aldo Adamo, che ha avuto esperienze medico-calcistiche a Torre del Grifo a Catania, avrà il ruolo di osteopata. E il dottor Ettore De Marco, che ha avuto esperienze mediche in campo sportivo all'Università UCAM di Mursia in Spagna, avrà il ruolo di fisioterapista. Sia Adamo che De Marco fanno parte del Centro Polifunzionale di Cura e Prevenzione Centroedera di Marsala.